Seguitemi, ora vi mostrerò qualcosa di speciale. Il mondo intero è fatto di storie e tutte le storie sono proprio qui dentro. Book, il Luna Park dei libri, è tornato in città. Una delle attrazioni più amate dai bambini e dalle bambine di Foggia ha debuttato per l'ottava volta negli spazi del Palazzetto dell'Arte di Via Gagliani. Pop-up è la chiave d'accesso ad una settimana di letture, laboratori e spettacoli. Quest'anno animati dalla magia innovativa del digitale. Il Festival della letteratura per le infanze e per piccoli e famiglie è un lascia passare per l'incredibile viaggio alla scoperta di narrazioni fantastiche e tavole stimolanti. Lui è anche per Paolo Daltan, illustratore per ragazzi pluripremiato. Perché ha detto sì a Book. Perché era un'esperienza nuova. Onorato di essere qua, voi siete notoriamente ultra ospitali e quindi non potevano mancare. L'importanza di far leggere i ragazzi, i bambini è fondamentale per la loro crescita e per stimolare poi anche un mercato che ha bisogno veramente di grandi lettori. Il passaggio al digitale viene raccontato nella galleria del palazzetto con la mostra Immagini oltre la carta, firmata proprio dal padrino dell'ottava edizione di Book. Il digitale consente di sviluppare il proprio disegno poi con il movimento. E questo è uno dei fattori per cui mi interessava sviluppare questo percorso. E probabilmente cercano anche questo, cioè belle storie, delle immagini che siano interessanti come colori, come composizione. Il festival prosegue tutta la settimana. Da non perdere martedì la fiera dell'editoria, un ventaglio di libri, 40 case editrici e il 20% di sconto sui volumi in vendita.